Benvenuti a FURIADROGIUSU LITERARIUSU, oggi FUEDAUSU DE DURISMO E FUEDAUSU DE AMBIENTI A SUGOSTAU MIU PONZIANA LEDDA, SALURI PONZIANA, BENI BENIA SALURI A TOTOSU Dunque, come sta andando? Voi trovate meno su questo Paese, ma se stanno in 2017, come sta andando? Ma non è che sta andando bene, bene in mera, se da paragonare a si stare in 2016 e si stare si passare a si. Stragoso Meluso, conoscevo Meluso, chi non è PONZIANA LEDDA e Tavairi, ci piace che è stato laureato, laureato in geologia, se non è sbaglio, laureato in geologia, però a posto un pari, d'oltre sconoscenze scientifica, se chissà laurea, d'antidonare, da sa posto, da sa un paio, da sa la mistura, da sa bene, con cosa che finisce una passione, e da fatto, tuto un paio, uno misteri che, i misteri si traspurabili su ogni punto, in questo mondo, i tasesi PONZIANA, i tavaisi in Ciavira. Deo, da pari che hanno, a posto che mi sono laureata, a posto, costituo una cooperativa, in paio con una pari di amici, e noi, secondo me, il lavoro che si sviluppa in Sardegna, fa conoscere il suo territorio ai turisti, in una maniera semplice, camminando, e io accompagno le persone nel suo territorio, a conoscere il luogo su cui teniamo, il luogo bello su cui teniamo. Questo che c'è una guida ambientale, una guida ambientale escursionistica. Guida ambientale escursionistica. Non c'è venuto il Savoro, non c'è venuto il Domingo su, Donia Dio vuole essere bello, e chi è il pubblico, cosa tua, chi si rivolge a Ponziana Ledda? No, io ho cominciato con questa gente di suo luogo, questa gente di sull'ultimo, che conosce il suo territorio per accanto a noi. A Bellavello esistendo tutto questo lavoro ai turisti da fuori, italiani, tedeschi, inglesi, francesi, e ora organizziamo le escursioni in questo periodo che non è il gusto turistico, che non è il gusto estivo, poi la gente di locali, poi la gente di Sarda, e in Italia invece si rivolge a tutti i turisti da fuori. Quali sono i dati dei partecipanti? Non mi chiedevo tutti i dati o non c'è una vascia di dati particolari? Sono gente di 30 anni, 50-60 anni, sono gente appassionata di questa natura, di camminare, di su camminare, e di conoscere questa natura in una maniera semplice, lenta, in maniera da si immedesimare questa natura. non c'è un turismo fatto pochino in spiaggia. Quanto è importante tenere allenamento? Un'escursione con Ponziana puoi andare a camminare in mera? Non si comprende? Sempre. Poi, per esempio, noi organizziamo escursioni facili, per famiglie, per compiare più, per alcune ore, per alcune ore, o per alcune escursioni per impegnare, per alcune cose, o per alcune cose. non c'è un'escursione. Non c'è un'escursione, non c'è un'escursione, ma c'è un'escursione per alcune persone che amano camminare in mera. Sì. Tu, due compagni, sul ruolo non è scelta di usare in dettaglio, o è usare in tali luoghi? E ti fai così? Due compagni, e spiego questi binti, che vorrei saperti naturalistiche del suo territorio, la parte geologica, un'antedotto, se vuoi tagliare... Questa competenza è tua? ...la parte archeologica, e la parte storica del suo territorio. In un'escursione, non c'è un'escursione per alcuni aspetti del suo territorio. E ci fai una mera persona per appassionare dell'archeologia, la sua natura, la sua storia. E per esempio, tu spiega questo appassionante. Non è una cosa semplice. Voi ti impagni a camminare, e già hai visto un impegno fisico che noi avevamo conto. Voi c'è la responsabilità di questa tromba, che hanno 10, 15, 20 persone. Poi c'è questo appassionato che ci portano in casa, che ci sono stati a luogo, e poi ci sono stati a vedere. E le conoscenze sono stati a vedere. Non basta andare a vedere ma ci sono stati a vedere. 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 Prima di un'escursione era impegnativo. E poi, prima di un'escursione, dovevo studiare sul luogo. Quindi, studiare sul sitinerario. Dopo studiare gli aspetti geologici, che conosco meglio, ma comunque studiare. E gli aspetti storici archeologici, che non sempre conosco. come tutti conosco. Poi fare un'escursione e ci sono in un bel tempo. Poi questo è impegnativo. Ma, allo stesso tempo, poi mi è una scoperta ogni volta che faccio un'escursione. Poi devo imparare una cosa che non conosciamo. in un'escursione in un'escursione con il tuo computer con i libri. Allora, tutto si gira. Non basta la numeria, ma tutto si gira. Allora, ora ho preparato un'escursione. Ho studiato un libro, ma tutte queste escursioni che non sono in grado. Adesso avranno mesi. Però sei già traballenti, lo comprendi, e poi c'è punto di vista il sopralluogo. Sopralluogo? Sopralluogo, che non sempre andava bene. in questa prima volta, dove andavo due o tre volte, sicuro. Può studiare bene un itinerario e poi ci chiedi sui percorsi di un itinerario più bello e dalla stessa maniera più facile per la gente. Certo. Poi quanto per toccare sono partecipanti, gente di un'edare tra i 30 e i 50 anni. Ho capito anche se ci sono gli indicanti che fanno delle domande difficili. Sì, sì. Una volta questa gente può preparare dei miei alcuni argomenti. Qualcun argomento? Qualcun argomento. E in questo caso devo fare domande a queste persone. Sì, non rende bene che queste cose non sono scelte e mi fanno con le persone che hanno spiegato. È capitato che qualcuno conoscerà bene questo argomento ed ho invitato a condizionare tutto il gruppo. Torno a questa cooperativa e questo associo di amici inizio da una scanta non fa. come ti nasce come ti nasce? Come ti nasce? con le persone con le persone con le persone di lavorare in questo ambiente. E ho deciso di costituire questa cooperativa grazie a una piccola regionale un piccolo finanziamento un piccolo piccolo e questa cooperativa nasce con cinque persone. in questo è un'applicazione turistica che nasce con Nozù deve sviluppare un'applicazione turistica che si si ha visitato sulcesiglesiente che esiste di tutti e si vuole agattare un digitale visit sulcesiglesiente agattare e diventare retentare sulcesigles immaginare testare informare un'app il sito archeologico il albergo il ristorante c'è tutto questo che un turista ha bisogno bisogno può abbassare una varia di una gira o due cittadini e la cooperativa nasce in questa maniera e è un allentamento che è impegnativo ai primi primi anni e ora voglio essere tra ballare e riuscire a dare in antesi bene poi c'è una soddisfazione di una risposta una risposta che è una cosa in crescere l'esempio aumenta l'interesse di l'archeologia c'è un sentimento archeologico sprazzino mera penso a sassozio che nasce santo anni su l'arche è una amica di questo sozio si 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 sveglia posa ammienti poco una cosa non ci se si 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 che ad esempio vince se fai formazioni e come c'è di spospetticolo se Europa, questo già si insegna la nostra vita è la nostra gomera se pensate che in Nazioni sicuramente Austria, Svizzera c'è una D a Sagira, tempo bello tempo mau soi o nienti e spiocchetto su vanno in subadenti gittano nel bosco vanno in subadenti, vanno in autosadding fanno lezioni, imparano noi se usiamo ancora vince se abissi a fare le ricreazioni si vede bravo, il suo tempo è bello se non c'è resfriare se usiamo ancora e spiocchetto non fanno più abituato a fare in saria libera in campagna in monti se a scuola si va in una stanza in una scatola in Serrara e si dimmi poi c'è friso poi c'è vento poi c'è proere e si dimmi a tutti portati a fuori quando è per essere una cosa naturale andai passi là conosci il suo territorio poi questa maniera è stata la maniera più bella conosci il suo territorio che sta camminando e conoscendo le difficoltà che c'è un tipo camminare sul territorio e spiocchetto imparano a vivere in saria aperta e i laboratori su nozù duze uffatto duzo uffè in campagna in montagna e duzo portau a camminare e duzo portau a camminare spiocchetto e duzo uffè su conosci a camminare e duzo uffè e duzo uffè e duzo uffè e duzo uffè che incontrano e più più mi interessano poi ti toccano con un'altra cosa che vengono cosa che conosci e non vengono scelte in un libro e più 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 curioso fai domande che non ti aspettano e fai domande a tu e ci vengono in un libro accanto al nostro accanto a questa scuola che vengono una scuola della natura io penso sempre questo esempio che faccio è Sassalina Sassalina è un libro meraviglioso e ha un discorso più 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 come si forma la Sussali Sussali non sono due a dire però un libro non scend di esatto sui commenti altre cose e Sassalina può più essere un luogo interessante interessanti ti imparai ma spesso aumenta i punti sempre in cerra su camminendo i monti posso dire che diventare un trollo ma i mammi e i babbi pensano che spesso non non pensano che non è lungo non ci dà vanti poi ho scelto a codo invece spesso si spesso manca il sacco quando andiamo a dom Sì, ci fanno più di 4-5 anni che hanno fatto fino a 11-12 km, e non si fanno fermato. Come hai detto un'escussione con tu, come hai detto? Hai trovato su Menjano, poi hai Snoi o hai trovato? Si, non ho trovato più Snoi. Noi Snoi sono andata bene, poi ci fanno sempre il tempo che arriva di attesa, di arrivare in comodità. Poi su domingo, specialmente, uno non è così che ci fanno mangiare, ma questa escursione deve essere un momento di rilassamento. In questo appuntamento, in generale, è Snoi, dove faccio il punto in questa zona. Si avrà un appuntamento, si partire, si spiegherà prima come si fanno le escursioni, quanti chilometri sui punti, si difficoltà e i tassibiri. e si camminerà. In questo passio vuoi su Brandio? Si, si, si portare a su Brandio al sacco, così detto al sacco. Non è scusatante... Non è bello dal passio colpo, non c'è un luogo più bello. E poi, se spiegherà la escursione, proseguire, vincere su Meriri. E tornava su il luogo di questa attenzione? Ma a volte aveva un percorso ad anello, quindi tornava su un punto di partenza, ma a volte aveva un percorso lineare, lasciato la macchina su un luogo di arrivo, e poi andato a piegare la macchina su un luogo di partenza. Poi c'era la compagnia. Sì, sì. Faccio un esercizio. Sei un Mario Bianchi di Milano, appunto, non conosco mai bene un Sardegna, ando in visita sul Cis, sul Cis Iglesiante, questa app, e ho fatto sul numero di la dottoressa Ponziana Ledda. Ti cerri, poi vai, fai una D. Una D, poi ti auguro, per esempio, fai cose a me, e non a curire, fai una gira. Però una D, poi fai un'escursione. Beh, la prima cosa che devo domandare a queste persone è che devo andare in Tiberi, se devo andare in Tiberi, un luogo archeologico, un luogo storico, se devo andare in camminare accanto su mari, o in montagna, o su monti. Mario Bianchi è crociato sull'archeologia. Bene, mera. Intanto, devo, da mannaghi, ci vunti mera le cose interessanti in noi, sì, del periodo noragico, del periodo pre-noragico, del periodo punico romano, e da mannaghi, da mannaghi, a pomimi, le cose interessanti che si può Tiberi in una del lavoro. Dica, se resta a Parigi, una D con gustosa, la Sousa, vai a questa archeologia, un amantioso dessa storia, e tu hai dovuto di ruso, non, sui ulcesi iglesi, enti? Dessa storia, sui ulcesi, se usa ricco, di una porta miniera, questa cosa più bella che teniamo su questa storia. E tu hai dovuto di miniera, Carbonia, o ruso, iglesiasi, o tutti due, o tutti due, o tutti due, e tu hai dovuto di miniera diversa, due miniera diversa, Carbonia, un po' di carboni, su carboni, e i minieri di iglesi, un piombo, zinco, e poi, ti hai dovuto di miniera diversa, questa cosa di iglesi, hai dovuto di miniera diversa, accanto al mare, e tu hai dovuto di miniera, ma hai dovuto di un aspetto naturalistico del suo luogo, e la miniera di Carbonia, l'aspetto sociale che è ridento, la nascita di Carbonia è tutto, un po' del fascismo, la condizione dei minatori, punti, due aspetto, su un mera interessanti, che coinvolgono il mera suo turista. vero so, nascenti di pregunte, la sensibilità di no, e poi, credo, con tutto, il rispetto, un pochino, non sci, ma che ci sia ancora ignoranza, nel senso del non sci, ancora, avretto su dei gusti, un momento storico. scondizioni di minatori, ma l'importanza che ha ridento, questa miniera, questo territorio, di Savinia e Sottogento, fino a Sammettari e Sottogento, è stata una mera monna, una mera persona che non conosce. E dunque, se c'è questo buro, fuori del suo tempo su Benidori, del suo che ha essi di noi cinque anni su dei noi a Deciano, su, il suo che ha avuto il punto che ha avuto il legislativo, il politico, che ha avuto che in alcuna maniera appareggiava. Questo argomento è un argomento, sovriti, non lo volevo chiaramente toccare tutto. È un monna, ma non mera. Però, che ha avuto questa cosa che ha avuto a Parigi all'estero, a Parimento tu? Devo a pubblico che in mera persone ha avuto interessato a questo traballo. Mera, picciocco, giovani, ha avuto interessato a diventare guida ambientale. Ma, non questa regione non donano mera importanza a questo aspetto turistico ambientale. Chiedi un modo di traballare salvaguardando gli ambienti. In questa maniera donano la importanza a questo che ha avuto questa storia dell'industria 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 in Sosulcis che ha un po' che penso che è questa vassata. Questa vassata si deve cambiare la pagina, si deve andare in antesi attraverso una riconversione dell'industria. L'industria rinqui in Aumera è ormai dubbioso in ogni paese e la malaria sa che ci vunti e invece se questo turismo di questo tipo ambientale non tenere controindicazioni. Può diventare guida turistica o per se tutto guida ambientale cosa fai? Allora toccherà fare uno corso specifico non necessariamente pochino essere laureato toccherà fare uno corso uno di rocini e degli guidati in accompagnamento Su corso chi deve organizzare le regioni? depilessi no può organizzare le regioni ma le regioni non organizzare depilessi un corso abilitato le regioni fatto le associazioni si abilitare chi va su gai sai gai il club alpino italiano e l'associazione italiana guida ambientali chi pochino essere laureato basta questo corso guida e si può riscrivere su albo di guida pochino essere laureato invece si depilessi in esami regionali chi sa regione però non bambini di navarriano non cosa manca questo lavoro cali che sia laurea banda veni no si posta guida ambientale dipende si laurea attinenti sia in materia scientifica laurea in scienze naturali geologia scienze forestali agraria biologia si di c di c di i guida guida su di atro si si esami si si i atro invece tenete altra laurea o non tenete sa laurea in paio su corso i guida 10 guida sa vada su di rocini pruso un esame che non si va in 2003 4 anni 5 ormai si c 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 abilitavo pagoso pori ressi pori ressi ma però c'è si richiesta c c c tirau manera gentile educare i zorrigasa i amministratorisi i regionali i legislatori poi torrenti a paris a questo gusto ci c 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 figura una professionalità di chi vorrei usunarli noa però c'è nessuna bisogno un mano in gusto sannoso è una cosa che è crescente che è crescente in mera e dopo una casa su territorio sardo e mera ma no quindi c'è del loro pova escursione si deve visitare se sembra in atto oggi vincere in sierro forci si fai frio specialmente in sierro vuoi taga insistere c'è basca mera può camminare su te su soli e in sierro invece si spera tutti hanno punti aici rigida e si vuole tranquillamente camminare devo faccio escursione si tutto sanno tutto sanno in sierro appunta esistono nomini ponziana ledda da gattesi vincisi in visit sul ci si chi le sienti chiboresi e bessini ma non scelti su soli non abbiamo detto il nostro nome sa cooperativa è vero su una lato destinazione sul ci si destinazione sul ci si chi boresi conosci meglio su su territorio nostro su soli ma ponziana c'è su soli sicuro si si di questo anno ha fatto escursione si in sa su pramonte e in ogli astra destinazione sul ci si devonziana ledda e popos artus poes amicus continentali si pochini indieni di devora sa estrangio su nocci punti barranco su acesti buona cattumodotto su conoscioso meno su su sulcisi conoscioso meno su su schisogio su de domo nostra grazie a ponziana ledda vos indessi vuedao e si comprendo che alcuna cosa ha un pruso dei potenziali d'arisi che ne usunissi su la nostra grazie a vosatros a otros annos adiosu grazie a vosatros grazie a vosatros